Oggi abbiamo due pasta sfoglia con la pancetta. Facciamo una ricetta semplicissima, come sempre. Una teglia. Togliamo il nostro formaggio spammabile. Andiamo a spammare sulla sfoglia. Abbiamo spammato bene e aggiungiamo la pancetta. Prendiamo il formaggio a fette. Andiamo a distribuire. Diamo la nostra seconda sfoglia. Andiamo a stendere sopra, ok? A coprire la sfoglia. Adesso dobbiamo si girare. Si giriamo bene. Con il taglierino andiamo a fare dei ritali. Quadrati, se riesco. Non sono tanto bravo a fare dei ritali. Ok, è pronto. Spammiamo un po' di uova. Uovo sopra. Per darvi un bellissimo colore. Andiamo in fondo. 175 gradi per 25 minuti, ok? Let's go! Guardate la nostra pasta sfoglia con la pancetta. Guardate. Adesso assaggio. Buonissima e semplicissima, ok? Guardate. ok